Ben trovati al Notice di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Sabato 1 giugno, presso gli impianti sportivi di Via Cendon a Silea, ci sarà il torneo di Rugby Touch Super Samu. Samuele è un bambino a cui nel 2022 è stata diagnosticata la leucemia, stravolgendo così la sua vita e quella della sua famiglia. La squadra Silea Rugby 1981, dove Samuele gioca, organizza il torneo a scopo benefico. Il ricavato, infatti, verrà devoluto ad Aile Treviso e alla Fondazione Città della Speranza. Questo perché lo sport del rugby incarna a pieno i valori di sostegno, famiglia e condivisione. Dunque, il 1 giugno sarà una giornata di convivialità, di giochi, risate, intrattenimento, sorprese e un terzo tempo da paura, con pizza, panini, birra, maxi, torta e tanto intrattenimento per i bambini, come detto, con musica e divertimento per fare del bene e sostenere così Samuele nella sua grande battaglia. Proseguo segnalandovi che la casatella trevigiana DOP festeggia 16 anni. È il primo formaggio a pasta molle italiano ad ottenere il riconoscimento della denominazione d'origine protetta. E sono molti gli appuntamenti pensati per far scoprire tutta la fresca bontà di questo straordinario prodotto. Sabato 1 giugno c'è la festa negli spacci, ovvero i punti vendita degli associati aderenti all'iniziativa. Domenica 2 giugno, nella loggia dei Cavalieri in centro a Treviso, dalle 10 alle 17, si terrà la mostra a mercato con show cooking e degustazioni guidate. Alle 12 inaugurazione e taglio della torta farcita di casatella trevigiana DOP, con brindisi offerto dal consorzio tutela Prosecco DOC. www.casatella.it o Facebook e Instagram per saperne di più. Nel 1961 nacque Amnesty International. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti, recita il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un assunto che da mezzo secolo anima le battaglie di Amnesty International, una luce perennemente accesa in difesa della vita, della libertà e della dignità di ogni individuo. Ciò contribuì a sensibilizzare maggiormente istituzioni e opinione pubblica nel riconoscere il prezioso impegno di Amnesty, che nel 1977 fu premiato con il Premio Nobel per la Pace. E ogni passo che facciamo è un passo verso la libertà. Renato Zero. Con la curiosità del territorio di oggi andiamo a scoprire Villa Repeta Bressan. Appena fuori dal piccolo centro del paese di Campiglia dei Berici, tra Noventa, Vicentina e Sossano, un paese in cui il toponimo ricorda la sua vocazione agricola. Campiglia deriva appunto da campus, cioè campo coltivato. Fondata in epoca mediovale, Campiglia dei Berici aveva anche un castello costruito probabilmente dai vescovi di Vicenza e distrutto dalla dinastia scaligera nel 1311. Sui resti del castello, l'architetto Andrea Palladio fece costruire una villa andata poi distrutta in un incendio. Infine, sulle rovine di quest'ultima, Enea Repeta nel 1672 costruì l'attuale villa, che era quasi una fortezza. Ancora oggi si vede la grande scalinata all'ingresso che conduce al Salone delle Cerimonie riccamente affrescato. Tutta la villa è circondata da un grande giardino, in parte all'italiana, in parte all'inglese. Un luogo che ha mantenuto il suo fascino nonostante il passare del tempo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci alla prossima puntata.